Ora sentite come attacca subito quello della Lega dicendo che deve chiedere scusa al sindaco di Bibiano, che ha preso le difese del sindaco di Bibiano, che ovviamente dopo sarà condannato e si farà i domiciliari per abuso d'ufficio. Io intanto vado a prendere i miei figli a scuola Marghera che sono lì da stamattina. Le citazioni servono per dare peso a discorsi che non ne hanno in genere. Beh, guarda, stroncata chiunque voglia fare citazioni questa. Questa era di una citazione. No, perché ne abbiamo sentite un po', però pure Salvini ne ha fatta qualcuna. Ma sì, ma le citazioni poi se sono dotte... Però la prima cosa che avrebbe fatta da parte del mio collega della Lega è chiedere scusa al sindaco. Adesso ci arriviamo, ci arriviamo a via fretta, fedele, adesso ci arriviamo. Le assicuro che ci arriviamo, Bibiano. Anche perché stiamo provando a capire se riusciamo a collegarci telefonicamente col sindaco che ci piacerebbe. Quindi vediamo, vediamo strada facendo.